Mary Jane ASMR ciao ragazzi bentornati 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 e con un nuovo video il video di oggi sarà un fall of my instruction per rimanere rimanere desti con l'attenzione o quantomeno cercare di rimanere attenti le funzioni saranno un po' non saranno tanto difficili ok? allora iniziamo allora concentrati sul dito alla mia sinistra questo qui ok? dimmi quando lo vedi vicino a te e quando lo vedi lontano da te ok? ok? ora è vicino rontano il dito alla mia sinistra ok? sempre vicino bravissimo bravissimo ok? bravissimo ok nessuno ok? ok? bravo continuo a guardare le dita bravissimo ok? bene bene adesso io metto i guanti scegli una mano sola decidi se vuoi questa o questa o questa una volta che hai scelto se seguire la mano con quanto senza quanto dovrai seguire solo la mano che hai scelto ok? ok? se lo so ci sono gli aerei che passano hai scelto? ok segui la mano che hai scelto non seguire me segui la mano che hai scelto non seguire me segui la mano che hai scelto non seguire me ok ok sei rimasto concentrato vero? bravissimo bene adesso passiamo a qualcosa di uditivo che suona questo bravissimo tapping che suona questo? sempre tapping ma hai sempre la stessa superficie o hai diversa? ascolta bene bravissimo due superfici diverse ok che suono è questo? te lo faccio riascoltare te lo faccio riascoltare cos'è? bravissimo la spazzola molto 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 bene adesso un altro suono più particolare rimaniamo sempre sul rimanere attenti su ciò che ascoltiamo ma non vediamo ok? ok cos'è? cos'è? uno squish bravissimo eccolo qua eccolo qua adesso facciamo una cosa un po' più difficile devi ascoltare questo suono mi devi dire esattamente che tipo di suono ASMR è ok? ascolta ascolta tu vedrai solo me però ti dovrai concentrare sul dito che suono è? bravo il suono quello del tappo che gira il lead sound vedo che sei molto molto attento bravissimo ok adesso aguzza la vista aguzza la vista mi sai dire che oggetto è questo? ok ok una candela bravo mi sai dire la forma di questo oggetto? mi sai dire la forma di questo oggetto? che forma è? è un po' bit si ma? bravissimo è una fragola questo questo che forma che forma questo oggetto? cupcake bravissimo adesso prendiamo questi due bombit concentrati su uno dei due e scegli se seguire la fragola oppure il cupcake io rimuoverò entrambi e tu ti dovrai concentrare soltanto su uno soltanto su quello che hai scelto a volte sarò più lenta a volte andrò più veloce ok? hai scelto? bene iniziamo devi tenere il mio ritmo qui e tu devi tenere il mio ritmo vedo gli occhi che ti girano vedo gli occhi che ti girano ok, bravissimo bravo, molto molto bravo adesso ti chiederò di seguire la luce ok, seguire la luce molto bene, molto bene ok grazie adesso dimmi quando la luce si muove no si muove? no ok no la luce si muove ok ok la luce si muove? ok la luce si muove? ok bravo adesso dimmi quando la luce è alle mie spalle oppure di fronte a te dietro dietro avanti dietro avanti dietro bravissimo adesso dimmi quando il raggio di luce si allarga o si stringe dietro dietro di me dietro di me fissa il muro largo ok stretto 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 vai largo stretto bravo vai stretto largo stretto 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 bravissimo vedo che sei in gamba eh ok adesso ho un altro piccolo sforzo ti chiederò osserva osserva le mie mani e dimmi quando almeno una uscirà fuori dall'inquadratura ok ok bravo sono qui bravo bravo ok bene io direi proprio che hai mantenuto la soglia di attenzione altissima e che sei stato veramente molto bravo mi raccomando se ti è piaciuto questo video lasciami un like iscriviti al canale se non sei ancora iscritto commenta e condividi il video con chi ama lo smr io ti saluto e ci rivediamo al prossimo video ciao